La fatturazione elettronica è un peso in più per i piccoli imprenditori, per i piccolissimi imprenditori, è un altro onore, è un costo in più che non serve a nulla, serve solo a rendere più difficile produrre ricchezza a chi lavora. Doppia offensiva di Fratelli d'Italia nei confronti della fatturazione elettronica. Dal primo gennaio del prossimo anno essa sarà obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA e riguarda le imprese con un volume di affari superiore ai 65 mila euro. Secondo il capogruppo del partito al senato Luca Ciriani la misura con quanto porterà nelle casse del governo servirà soltanto a finanziare il reddito di cittadinanza. Chi lavora, chi produce viene penalizzato per garantire 2 miliardi di euro che probabilmente finiranno nelle tasche di chi non ha mai lavorato e chi non intende lavorare. In altre parole 2 miliardi della fatturazione elettronica per dare 2 miliardi di reddito di cittadinanza. A livello regionale l'obbligo rischia di mettere in ginocchio la struttura portante dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Il nostro tessuto imprenditoriale regionale è costituito da piccole e medie imprese e questo aggravio ulteriore peserà duramente su di loro perché soprattutto è chiaro che chi lavora con il proprio lavoro, l'artigiano triestino o la partita IVA che certo l'avvocato che non ha certo un ufficio d'amministrazione, l'elettricista, il commercialista, ecco, questo tipo di tessuto imprenditoriale della fatturazione elettronica sarà assolutamente colpito. Di più, ragiona Giacomelli, in tal senso le imprese regionali rischiano di patire la concorrenza di Austria e Slovenia. In quei paesi la fatturazione elettronica è un obbligo solo nei confronti della pubblica amministrazione, quindi le imprese del Friuli Venezia Giulia saranno ancora più colpite. Fratelli d'Italia ha presentato in consiglio regionale una mozione per ottenere che l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica sia posticipato di un anno. A livello nazionale il partito di Giorgia Meloni si è impegnato in una raccolta di firme per riuscire a scaglionare nel tempo l'introduzione di tale obbligo.